Aldo 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 devi stare calmo Per favore chiamami il direttore Però tu stai calmo me lo prometti Se non apri la porta spacco tutto No dopo sono costretta a chiamare gli infermieri Ti denuncio Aldo dopo sono costretta a chiamare due infermieri Aldo sto Aldo sto Non sono Aldo No ma io Colo di pazzi questo Io non so perchè insiste Aldo perchè insiste con questa storia Mi apri sta porta o no? Adesso basta eh Aldo calmati No calmati Apri sta porta Aldo calmati Non sono Aldo Non sono Aldo Perchè Aldo non sei remici Lui è molto più giovane di te Grazie 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 Ragazzi Grazie a tutti.